Io sono Loreno Michelin, mi occupo della parte commerciale estera di 32 Vidi Birrai. Voi non ci credete, ma il mio sogno era fare il ferroviere. L'ho bevuta a casa, di nascosto da mia madre. Unica, futuristica e innovativa. Questa è stata la prima bottiglia che noi abbiamo fatto e questa è l'attuale. Continuerà sempre a evolversi proprio per essere diciamo sempre più attenti a quello che è la qualità, la vestizione, il famoso Made in Italy. Molto semplice e molto chiaro.